No, il problema per la raccolta delle firme non c'è stato. In quel periodo di Ferragosto, in tutta la Toscana, siamo riusciti a raccogliere 1800 firme e i compagni sono impegnati dalla mattina alla sera. L'unico problema è questa legge nefasta che è stata fatta, il Rosatellum, perché per essere presenti dobbiamo raccogliere 750 firme in due collegi. Noi ne abbiamo raccolti 900 in un collegio, in un altro 400 e in uno siamo arrivati a 700. Se riuscivamo a raccogliere 50 firme in più, il Partito Comunista Italiano era presente anche alla Camera, oltre che al Senato, come siamo presenti al Senato, con il nostro candidato che è Marco Barzanti, segretario regionale del Partito e con forza dopo 30 anni riportiamo il Partito Comunista Italiano nelle schede elettorali. Diamo forza al Partito Comunista Italiano. C'è un punto a cui le tieni in modo particolare? Sì, certo. Io perché venendo dal mondo del lavoro, essendo stato un operaio per 40 anni e in particolar modo impegnato anche nel sindacato, credo all'interno di questo nostro programma riponiamo alcuni aspetti molto importanti, diciamo così. meno lavoro a parità di salario, andare in pensione a unità dignitosa, 35 anni. La questione che è stata pensata, diciamo sì, anche del salario minimo. Noi proponiamo 10 euro. Io credo che questi siano degli aspetti in cui il Partito Comunista Italiano si deve caratterizzare, perché il mondo del lavoro è sempre più in difficoltà, in tutte le sue circostanze. Dobbiamo anche dire in maniera aperta e forte che la responsabilità anche di questa condizione dipende in qualche maniera anche dalle organizzazioni sindacali, perché all'interno dei luoghi di lavoro non rappresentano più la classe operaia, ma sono presenti, diciamo così, per fare i CAF, per fare alcune cose, ma non incidono più in quello che si chiamava una volta lo scontro di classe. Lo scontro di classe non esiste più.